Oggi video operativo dedicato alla coppia euro-dollaro che so che molti di voi hanno a cuore e che tradano soprattutto perché se seguite questo canale siete probabilmente appassionati di mercato delle valute e quindi del mercato forex allora ho pensato per questo sabato, per questa sessione di video di fare un punto tra quello che è la divisa euro e la divisa dollaro quindi andando a cercare di capire meglio che cosa ci sta dicendo l'euro-dollaro e soprattutto come magari poter fare un certo tipo di operatività che sia sana, che non sia troppo speculativa ma che vada a cercare di prendere un movimento sulla coppia euro-dollaro. Allora andiamo subito a vedere il grafico quindi quello che voi vedete qui con sfondo nero e candele verdi e rosse è l'andamento grafico appunto quindi l'andamento dei prezzi come possiamo notare da questi picchi fatti proprio nel 2018 a inizio del 2018 fino arrivare ai bottom quindi ai minimi fatti l'anno scorso nel 2020 e poi nuovamente tutto il trend con i al momento picchi che ci sono stati sull'euro-dollaro proprio qui a 1,23 negli ultimi mesi a gennaio in realtà. Allora che cosa si può notare? Beh si può notare intanto la bellezza del mercato forex sinceramente cioè il fatto che ci sia comunque vedete dei periodi con tendenze long e short e quindi questa versatilità anche per quanto riguarda noi trader di andare ad approcciare il mercato sia in ottica long quindi in ottica di acquisto quindi accercando ovviamente un rialzo dei prezzi e sia in ottica diciamo short per andare a prendere un ribasso. Ricordo a tutti magari soprattutto per chi è un po' all'inizio nel mondo delle valute che nel mondo delle valute se io vado a comprare la coppia euro-dollaro significa che compro un controvalore di euro nei confronti del dollaro e quindi compro euro diciamo e vendo dollari scambio euro con dollari mentre nel momento in cui io vendo la coppia euro-dollaro significherà che compro dollari e vendo euro sempre con un controvalore che decido prima. Questo ovviamente è una base per chi fa valute chi ovviamente lo fa già da tempo non ha bisogno di questi messaggi però lo voglio dire soprattutto magari per chi è all'inizio. Quindi euro-dollaro che si può comprare si può vendere nel momento in cui vado a vendere comprerò i dollari e nei confronti dell'euro, nel momento in cui compro, comprerò gli euro nei confronti del dollaro. In questo momento attuale noi cosa notiamo? Notiamo che è avvenuto, guardiamo un po' più da vicino il grafico quindi dopo aver visto un po' gli andamenti e quindi i livelli di prezzo più importanti. Ricordiamo che il Forex soprattutto sente molto i punti dove il mercato, queste aree che io ho segnato con delle linee tratteggiate sono le zone dove in effetti il mercato ha sentito in maniera più importante nel recente passato, in questo caso negli ultimi 2-3 anni, alcune aree quindi sono diventate quelle che io chiamo aree di interesse e quindi dove ancora il mercato potrà avere interesse a comprare o vendere. Quindi andiamo a vedere un po' più da vicino quelle che sono poi le ultime, voglio farvi vedere come il livello dove siamo adesso è stato un livello in effetti importante proprio qualche anno fa. Detto questo andiamo a vedere un po' che cosa sta succedendo e nell'ultimo periodo abbiamo avuto una tendenza long molto chiara, molto chiara su un grafico, questo è un grafico ogni candela che vedete, barra che vedete, verde e rossa va a comunicarci che quella lì è stata una settimana di contrattazione, quindi da lunedì, da domenica sera a venerdì sera. Ecco che in questo caso tutto questo andamento è un andamento assolutamente long che si è poi stabilizzato in certi momenti, soprattutto nell'ultimo periodo il mercato che cosa ha fatto? Aveva fatto un euro-dollaro che aveva scambiato euro-dollaro in area 1,23 per poi ristabilizzare un po', creare un movimento diciamo di ritracciamento come viene chiamato di pullback, quindi di riossigenazione che ha visto alcuni movimenti di minimo e massimo fino ad arrivare proprio in area 1,17,50 all'incirca sedendosi qui e ripartendo. Questa ripartenza quindi la mia idea è, quindi andiamo a vedere proprio a livello operativo è una ripartenza che può darci l'idea di comprare, quindi ritornare diciamo ad investire in euro vendendo dollari o è un'idea che, o comunque ci dà un'idea di onda rialzista ma che può riportare i prezzi giù un po' come quando succede qui che fa un movimento ribassista, poi crea questo swing come li chiamo io movimento ossigenazione rialzista e ancora gamba e qui quello che sta avvenendo è proprio il classico ritracciamento in questo caso a tre candele verdi al momento, siamo a venerdì in questo momento che sto registrando il video è venerdì e sono circa le 11.30 del mattino quindi questo video voi che lo state guardando ora è sabato alle ore 14.30 o successivo a questo orario e quindi potete ben capire che dobbiamo ancora chiudere la settimana però io ho una view abbastanza chiara su questo mercato che al momento praticamente quindi mi vado ancora di più a vedere quello che sta avvenendo è arrivato proprio in zona 1.20.80 che avevo segnato qui zona dove, 1.21, dove si era seduto prima, aveva creato quel pavimento dove tra l'altro poi io shortai anche l'euro in questa settimana ci diede un bel messaggio operativo dal mercato vi ricordo che io tendo a fare per operare sul mercato a lavorare esclusivamente di quelle che sono le dinamiche dei prezzi su time frame ampi cercando di fare delle operazioni a basso rischio cercando di gestire in maniera ottimale il rischio perché sapete che nei mercati non è facile guadagnare e bisogna sempre essere molto attenti quindi ecco parentesi diffidate sempre da guadagni troppo rapidi e troppo facili e troppo grandi rispetto a quello che rischiate ma in questo caso insomma sicuramente un bel andamento siamo ritornati in area 1.20.80 all'incirca zona che avevo segnato nel mio piano operativo come zona importante e queste sono le classiche tre barre che possono in effetti far pensare a due cose o l'euro dollaro adesso è pronto per un ulteriore allungo o su queste aree magari un po' più in alto magari un po' più in basso potrebbe ripartire magari un movimento ribassista quindi o rialzista, abbiamo detto ribassista allora voi mi dite Martino e quindi cosa faccio? cosa pensi che possa succedere? allora io starò molto attento al momento la mia idea è short la mia idea è quella che questa area diciamo teniamola così questa zona che passa anche per 21, 21.10 visto quest'area qui possa tenere e nelle prossime giornate il prezzo possa quindi prossime settimane, prossime giornate possa scendere possa scendere almeno fino a 1.19 quindi in questo momento ovviamente la view non è di lunghissimo termine nel senso di qualche tempo dove magari ho dei target ampi ma che ci possa essere un recupero di quest'area 1.19 nel breve è possibile quindi quello che mi viene da dire è in ottica in linea di massima l'idea è quella di attendere ovviamente un entry short oppure adesso magari prendo i certificati Turbo 24 così vediamo anche dove si potrebbe andare a impostare magari un'uscita dalla posizione sia in target che in perdita e in questo caso ecco qui che in linea di massima c'è appunto questa tenuta tra l'altro guardando un grafico a barra giornaliere nell'ultimo periodo, negli ultime giornate vedete che c'è stata questa difficoltà iniziale ad andare al di sopra di certe aree e chiudere al di sopra di certe aree e qui tengo diciamo più che altro la zona 1.21 c'è una chiusura forte sopra 1.21 quindi al momento c'è una price action di indebolimento di questa fase rialzista che c'è stata e che può iniziare in effetti a farci pensare che l'euro dollaro possa avere una discesa e quando dico discesa ovviamente sto parlando magari di una discesa inizialmente verso area 1.19 almeno inizialmente area 19 che in effetti è stata nel recente passato un'area dove il mercato aveva resistito dal rialzo come potete notare e poi aveva resistito anche se poco quindi facendo supporto nel momento in cui il mercato era sceso poi risceso e poi recuperato quindi in questo caso specifico diciamo che mi aspetterei un ritorno almeno dell'euro 1.19 perché vi dicevo anche fase long? perché poi bisogna capire se in questo caso dove ci sono già state tre candele l'ultimo swing è stato qui diciamo che quello che mi aspetto di più potrebbe essere una tenuta in linea di massima qua un ritorno anche in vista appunto della price action sul daily un po' di indebolimento di ritorno verso la zona che passa per 1.19 1.1895 1.19 da qui poi si vedrà perché se dovesse creare un certo tipo di price action che ci sta dicendo che il mercato può anche scendere maggiormente è ovvio che qui ci potremmo anche attendere un movimento molto più ampio e abbiamo tre livelli quindi successivi che sono l'area 1.19 1.1750 e 1.16 1.1620 queste sono le tre zone importanti quindi potrebbe diventare un big deal un bel trade short quindi andando long di dollari quindi comprando dollari vendendo euro diciamo da qui alle prossime una o due settimane poi dobbiamo vedere ovviamente quello che avviene questo è un video che ovviamente vuole solo darvi un'idea di massima anche e soprattutto a livello didattico per come ragiono per come cerco di fare dei trade che abbiano una certa logica cioè io non sono assolutamente il trader che si mette lì sui grafici a minuto o a 5 minuti eccetera eccetera cliccare e vendere sempre costantemente quella diventa più una scommessa invece c'è uno studio che arriva da lontano e che cerca di progettare un trade quindi in questo caso assolutamente io sono dell'idea short su questo mercato e short appunto nel momento in cui poi ci mostrerà delle conferme ulteriori magari sul grafico settimanale a quel punto si potrebbe addirittura pensare anche di tenere la posizione di più e fare un certo tipo di dinamica in questo caso specifico quindi prendendo come spunto il grafico daily e quello che è avvenuto sul daily quindi questo indebolimento qui si potrebbe pensare di andare vedete se vado nella tabella short dei certificati turbo 24 ho svariati certificati con knockout diversi e ovviamente leve diverse che posso sfruttare io questo ricordo è un grafico settimanale io in questo caso andrei a prendere il livello vedete il terzo livello che è un livello con in questo caso leva 35 però adesso io vi spiego come perché poi in realtà la leva cioè io non la uso mai leva 35 perché ovviamente metto a margine diciamo dell'operazione cioè il mio investimento è facciamo esempio 1000 è o 100 o 50 e quello è il mio massimo è la mia massima perdita più che altro quindi in linea di massima significa che se investo 1000 1000 per 35 volte ora dire che io su questo mercato è come se avessi investito 35.000 euro però in linea di massima è che se io investo 1000 su questo mercato oppure facciamo un esempio più più basso come importo se io investo 100 su questo mercato significa che nel momento in cui io compro dollari e vendo euro avrò questi 100 euro che ho investito e se la posizione se l'euro dollaro inizia a salire 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 andrà nel mio punto quindi andiamo a cliccarlo eccolo qua 24.09 dove c'è scritto knockout KO nel momento in cui io ho messo 100 euro per questa posizione facciamo finta eccolo qua nel momento in cui questo sale 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 e mi prende qui è ovvio che io i miei 100 cosa succede? che non saranno più 100 ma diventeranno 0 quindi la posizione va a 0 quindi si investe solo quello che ci si può permettere di perdere questo è lo sottolineo si deve investire solo quello che ci può permettere di perdere e questi 100 euro li avevo investiti e quindi ogni investimento può o dare delle soddisfazioni con dei profitti oppure dare un costo chiamiamolo così quindi quei 100 euro non con quei 100 euro non si è riusciti a guadagnare ma quei 100 euro sono andati a 0 quindi non si è guadagnato ok? si sono persi quei 100 euro quindi ecco che se io faccio un'operazione di questo tipo in questo modo guardate un po' andrò a mettere la quantità ovviamente che che è più giusta quindi per esempio facciamo più giusto così 29 oh guardate qua se io metto se io vado a comprare comprare 29 certificati short euro dollaro short avevo cliccato short euro dollaro short quindi compro 29 certificati short di euro dollaro al prezzo di 30 e 50 come vedete qui vuol dire che avrò un controvalore a mercato quindi quello che è il mio rischio quello che è il mio investimento è di 101 euro e 70 comunque insomma circa un centinaio di euro quindi qualsiasi cosa può accadere anche se dovesse esserci un gap che sull'euro è difficile però mentre in caso che ci sia un gap enorme magari sono qui il mercato mi gappa comunque la mia posizione verrà chiusa al knock out 24 e 09 con 101 euro quello che è 100 euro di investimento che è andato a zero quindi intanto vedete prima di tutto quando si sviluppa un'operazione in questo caso l'euro dollaro la si deve sviluppare sempre andando ad essere molto consapevoli e accettare il rischio quindi consapevoli del rischio che si prende e quindi consapevoli del fatto che quel rischio può diventare poi l'investimento può diventare poi una perdita diciamo però se ovviamente si ragiona bene si sa che questi sono i soldi che si possono perdere al massimo ovviamente il controvalore sale e cresce è normale poi una volta che si blocca c'è l'anteprima dell'ordine quello è quindi in linea di massima questa è diciamo l'operazione che si può fare in realtà voi potreste farla anche con un certificato con investendo 3,50 euro fa un po' ridere quindi insomma adesso facciamo una cosa un po' più veritiera mettiamo questi 100 euro ecco qua che sono praticamente la mia il mio investimento quindi nel caso in cui il mercato salga un po' eccetera io comunque ho un paracadute qui ecco quello che io mi aspetto quindi questa potrebbe essere ideale buono come un account è abbastanza ampio gli diamo spazio al mercato di giocare un po' su queste aree con la possibilità anche che nel momento in cui e quindi lì andrei ad aiutarmi su un grafico a barre giornaliere che è un po' più veloce e mi mostra anche un po' i movimenti giornalieri posso anche pensare che su certe aree potrei decidere di uscire nel caso in cui il mercato si dimostra totalmente contrario diciamo e quindi inizia a salire in un certo modo per cui posso anche decidere che a un certo punto la mia posizione si possa chiudere allora manualmente andrò a prendere il mio posizionamento andrò a cercare di trovare sul mercato la controparte che con i certificati si trova sempre chiudendolo per attivare sull'euro-dollaro chiudendo la posizione di 29 contratti ovviamente andandoli a vendere questi 29 certificati e quindi chiuderò magari la posizione nel caso in cui non vado magari anche a 50 euro quindi posso comunque sempre attuare una modifica della posizione manuale nel caso in cui il mercato non fa quello che noi vogliamo e quindi ci dimostra che in effetti la nostra idea non era corretta e vi ricordo ragazzi che un trader non deve pensare di avere ragione quando va sul mercato deve avere delle idee pianificarle bene pianificare il rischio poi cercare di vedere un po' come va il mercato se le cose non vanno come devono si chiude se vanno come devono si chiude comunque si va in profitto ma non è il fatto di dire ah che bravo che sono stato che figo che sono faccio ho fatto bellissime operazioni sono il più bravo e poi sale quel senso di onnipotenza che non fa benissimo al trading quindi non dobbiamo pensare di avere ragione ragazzi toglietevi questo tarlo pensiamo di lavorare bene di avere delle buone visioni di fare dei buoni trade certi trade andranno bene certi trade andranno un po' meno bene cerchiamo di gestire bene quelle che sono poi le nostre operazioni quindi in questo caso bellissimo perché i certificati turbo ci danno questa possibilità di avere tra l'altro questi valori knockout fissi fissi che poi si muovono in realtà vi spiego nei certificati se voi fate il forex non c'è il rollover notturno quindi ogni notte non avete il rollover ma viene implicitamente inserito nel valore di knockout quindi in questo caso se dovessimo pagare una piccola somma overnight che è il classico rollover che si paga differenziale tassi eccetera eccetera a volte ce lo danno perché se differenziale tassi a nostro favore avremo un profitto anche nell'overnight ma nel caso in cui qui magari abbiamo un leggero un leggerissimo perché si tratta al momento almeno di leggerissime rollover in quel caso il knockout si abbassa leggermente quindi è meglio sempre tenerlo bello ampio in questo caso sui massimi degli ultimi mesi anche degli ultimi anni cioè dell'ultimo anno almeno e sopra i massimi l'ultimo anno e quindi c'è spazio quindi questo è sicuramente molto interessante se invece per esempio non decidiamo di far nulla ma ne possiamo attendere delle nuovi input su daily e weekly e quindi attendere nuovi input o di tenuta di questa zona oppure se dovesse iniziare a scendere prima e quindi quello che io penso se la 1.19 non dovesse avere una forte discesa e quindi mantenersi si potrebbe pensare di andare poi lunghi eccetera però siccome questa rubrica diciamo su euro dollaro la vorrei mantenere più spesso più frequentemente anche qui sul canale youtube magari un paio di volte al mese così magari rivediamo un po' quello che può avvenire e quello che succede in questo caso quindi euro dollaro avete visto un po' la mia view quello che potrebbe avvenire quello che mi piacerebbe fare quello che si può tra l'altro come si potrebbe lavorare con dei certificati turbo 24 tra l'altro trovate in descrizione anche il link per provarli e a questo punto direi che abbiamo detto tutto noi ci salutiamo io vi auguro ovviamente una buonissima giornata e ovviamente ci vediamo ai prossimi video ciao a tutti buon trading simple